Tibet, oggi per non dimenticare, è il titolo del convegno organizzato a Palazzo Laskris dal Consiglio regionale, un appuntamento per ricordare la tragedia del popolo tibetano, vittima da oltre 60 anni del tentativo di cancellarne l'identità culturale e religiosa. Il convegno è stato aperto dalla preghiera del lama Shartrul Rinpoche.